Ed ora andiamo alle vicende venezuelane. In una lettera alla stampa il Premier Conte dà la posizione italiana su Guaidò e Maduro. Sentiamo Ilaria Capitani. È un dialogo a distanza, quello tra il Premier Conte e il Presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Guaidò, leader dell'opposizione, autoproclamatosi Presidente ad Interim. Un dialogo che si consuma sulle pagine del quotidiano alla stampa. Alle richieste di aiuto di Guaidò da parte dell'Italia, Conte risponde Siamo vicini alle sofferenze del popolo venezuelano. Il mio governo, scrive il Premier, non l'ha riconosciuta Presidente ad Interim non solo per ragioni di ordine giuridico formale, ma anche perché consapevole del rischio di contribuire alla radicalizzazione delle rispettive posizioni, incrementerebbe la violenza. Riconosciamo legittima l'Assemblea Nazionale e il suo Presidente Guaidò, dice il Premier. Il Presidente Maduro invece non ha legittimità democratica, sottolinea, ma l'unica soluzione è politica, mai militare. Ed è a questo che il governo sta lavorando, rivendica, ad una soluzione pacifica che porti a libere elezioni. La posizione dell'Italia dunque non cambia. Condanna delle limitazioni ai deputati venezuelani, in due ricordaconti hanno trovato rifugio nella nostra ambasciata, e rapporti bilaterali mai interrotti, sottolinea, siamo parte attiva del gruppo internazionale di contatto. Grazie.